Nell'ambito della Polizia di Stato da anni siamo promotori di progetti di legalità, però mi sono reso conto che non solo nella realtà torinese, ma anche nell'ambito dell'intera zona di mia competenza, non c'era una declinazione particolare proprio sull'aspetto di frontiera, che evoca un tema fondamentale oggi che è l'Europa, tanto più in giorni di grande dibattito politico rispetto a che cos'è oggi l'Europa. E quindi l'idea di creare un progetto per le scuole, primarie e secondarie, in cui parlare ai ragazzi attraverso la figura della guardia di frontiera, perché noi questo siamo, che è una guardia di frontiera che tutela i confini non solo nazionali, italiani, ma di tutto il contesto degli stati che aderiscono al Trattato di Schengen, ecco far capire anche il concetto di Europa, il concetto di condivisione, di obiettivi, di un'Europa che non è più solo come nacque all'epoca un'Europa economica, ma è oggi anche un'Europa fisica, politica e di popoli. Credo che ci si debba porre da tecnici come siamo, quindi al di fuori di qualunque strumentalizzazione politica e ideologica, perché non ci appartiene, con due grandi stelle polari. Uno è quello della solidarietà umana, che non credo possa prescindere da qualunque attività si svolga, e l'altro è quello dell'applicazione delle regole, in primis la nostra carta costituzionale, poi gli accordi internazionali recepiti dal nostro Paese, e quindi le leggi interne dello Stato. Questa è la nostra linea su cui cerchiamo tutti i giorni di proseguire la nostra strada. Grazie.